Papa Francesco potrebbe visitare l'India l'anno prossimo, lo ha detto il premier indiano Narendra Modi nel corso di un'intervista televisiva in cui ha rivelato di aver invitato il pontefice. L'ha invitato a visitare l'India e forse fisserà il suo programma l'anno prossimo, ha riferito il premier. I cristiani costituiscono il 18% dei 33 milioni del Kerala, che è anche la base di due chiese di rito orientale. Quando tre anni fa sono andato in Vaticano ho incontrato il Santo Padre, abbiamo avuto lunghe discussioni ed era a conoscenza dell'operato del mio governo, ha aggiunto Modi. Abbiamo parlato su vari temi e di molti argomenti, eravamo dalla stessa parte. Il Vaticano ha da poco confermato un viaggio del Santo Padre in quattro nazioni del sud-est asiatico e in Oceania a settembre. Nonostante le sue ripetute visite in Asia, Papa Francesco non ha mai visitato l'India. Nell'ottobre 2021 è stato riferito che aveva accettato un invito di Modi. Nel 2016 si diceva invece che il Papa fosse quasi sicuro di visitare l'India, ma il Vaticano abbandonò il piano e incluse invece Bangladesh e Myanmar nel viaggio papale del 2017.